Finalmente con la fissione forzata dello spirito sono riuscito a colpirti, bastardo. Ammetto che questa l'ho sentita. Oh no, Vegeta! Kakarot, raccogli quanta più energia possibile. Io lo tengo impegnato. Oh oh oh, è inutile che continuate a combattere. Lui è un mostro millenario. L'unico modo per sconfiggerlo è offrirgli il culetto. Cosa? L'unico modo per sconfiggerlo è con del sesso anale. Bene, so già chi chiamare. Eh, Goku, mi hai spaventato. Yamcha, stiamo affrontando un mostro millenario, impossibile da sconfiggere. Servi tu per batterlo. Ah, ho capito. Mi serve la mia audacia. Forza, esperienza, tecniche micidiali che solo io posseggo. Bene, sono dei vostri. Tempo di cambiarmi. Aspetta, non mi sono alzati i pantaloni. Tranquillo che non ti serviranno. Ok, sono pronto. Dimmi, è lui l'avversario che dobbiamo affrontare? Ehi, mostro! Finalmente abbiamo il sacrificio. Cosa? Mi sembra un po' stretto questo buchetto. Tanto con la mia coda riuscirò ad aprirlo meglio. E anche questa volta i nostri eroi sono riusciti a battere l'avversario. Questa volta con qualche aiutino. Ma sono sempre i nostri eroi. Tu credi, basta! Aiuto! Eheheheh, vieni qui, boccavella. Eheheheh, vieni qui, boccavella. Eheheheh, vieni qui, boccavella. Eheheheh, vieni qui, boccavella.